Intanto nel suo pagina di Facebook il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha scritto che Grillo è partito per fare la rivoluzione e come spesso accade in questi casi finisce per dare una mano alla restaurazione. Il Tar della Toscana ha decretato illegittime le bollette idriche post referendum, una vittoria per il forum dei movimenti per l'acqua che ora chiedono la restituzione dei soldi percepiti illegalmente. Sentenza storica del Tar della Toscana che ha accolto il ricorso presentato dal forum toscano dei movimenti per l'acqua che aveva denunciato il fatto che le tariffe comprendono ancora la remunerazione del capitale investito abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011 ma esse secondo il Tar sono illegittime. Il Tar dunque dà ragione ai movimenti, è stata violata la volontà popolare da parte dei 56 sindaci dell'ex auto 2, una sentenza destinata a travolgere chi sull'acqua intende continuare a fare profitti dicono i rappresentanti dei movimenti. Il decreto ministeriale sulla base alla quale si continuava ancora a richiedere la remunerazione del capitale investito dovesse essere in qualche maniera disatteso perché è spazzato via del referendum. Questa pronuncia non fa altro che ulteriormente sottolineare la bontà della volontà popolare e quindi annullare un atto amministrativo che andava contro quello che era la volontà popolare e quindi contro atti di legge. Queste soldi non dovevano essere richieste, questo è stato dichiarato l'illegittimità di queste tariffe, dal 21 luglio 2011 per il 2012 e anche per il 2013 quelle che paghiamo adesso in tariffe in tutta la Toscana sono delibere illegali. Siamo in tutte le piazze d'Italia per l'obbedienza civile, forse la chiameremo differente, non dico che sia più obbedienza, la chiameremo anche disobbedienza, arriveremo anche a fare la disobbedienza. Che la campagna d'obbedienza civile continua, continuiamo ad autoridurci le bollette, si può andare sul sito www.obbedienzacivile.it per trovare lo sportello più vicino a casa. Sitin di protesta degli infermieri di Careggi contro la rivoluzione dei turni e degli orari stabiliti dalla direzione. È per l'ennesima volta che noi informiamo.